Benvenuti nella cucina del lusso della semplicità. Ogni occasione è buona per conoscersi meglio. Ho per voi una domanda. Cosa ricercate in un piatto? Io ad esempio la cura del dettaglio e ingredienti che portano il profumo di una terra. Stessi elementi che ho trovato passeggiando tra le colline di questo territorio unico dove mani esperte coltivano ogni giorno l'uva moscato bianco. Quando c'è passione e cura nel dettaglio non puoi sbagliare ricetta. Qui la mia interpretazione del pollo alla merengue perfettamente abbinato al suo calice di asti spumante. Di OCG ovviamente. Alla prossima ricetta!